è l'Italia delle piccole imprese non spegnete questa luce la manifattura 4.0 offrirà grandi opportunità all'artigianato perché permetterà di esaltare ulteriormente quelle doti di creatività e inventiva che sono da sempre le prerogative delle piccole imprese italiane consentirà di soddisfare ancora meglio quella richiesta di prodotti personalizzati che è destinata ad aumentare come reazione alla spinta standardizzazione dell'offerta ne è convinto Mauro Bettiol, docente di marketing all'Università di Padova intervenuto all'incontro sul tema piccole industrie e internet delle cose affrontato nell'ambito del festival Città Impresa un appuntamento curato dalla Confartigianato Vicentina le tecnologie digitali favoriscono scenari nuovi ha osservato Pietro Delotto, direttore generale di Confartigianato Vicenza dove la dimensione di impresa non sarà più un fattore competitivo con l'ausilio della rete avremo infatti un'impresa diffusa e quindi un sistema produttivo connesso e ancora più integrato rispetto al passato di fronte a tali prospettive, ha aggiunto un'organizzazione di categoria deve accompagnare le imprese come sta avvenendo nell'acquisizione di competenze fondamentali per affrontare il cambiamento in atto la nostra richiesta, ha sottolineato Delotto è che il territorio tutto sappia contribuire a questa evoluzione culturale garantendo condizioni di contesto interessanti e appetibili per quei giovani, italiani e stranieri in grado di valorizzare le nostre capacità produttive in grado di valorizzare le nostre capacità produttive